L'entanglement dimostra l'esistenza dell'anima. All'inizio si chiamava paradosso EPR, poi teorema di Bell, poi disuguaglianza di Bell, poi dimostrazione della disuguaglianza di Bell, insomma alla fine è stato chiamato entanglement. Allora il fenomeno dell'entanglement parte sempre dall'interpretazione del collasso della funzione d'onda di Schrödinger, tant'è vero che Einstein quando si è accorto che la matematica del collasso della funzione d'onda, del principio di indeterminazione di Heisenberg aveva questa implicazione, cioè che tu puoi prendere due elementi di realtà, farli interagire, puoi mandarne uno dalla parte dell'universo, uno dall'altra parte dell'universo, tu cambi lo stato a uno istantaneamente, cambia lo stato anche all'altro. Questa cosa qua è una cosa che per Einstein era impossibile perché viola il determinismo, viola il realismo e viola il principio di località. Comunque il concetto qual è? Io ho due elementi di realtà, li faccio interagire, li separo e anche se la loro componente fisica quindi manifesta il loro corpo, cioè il loro corpo fisico, lo separo al punto da essere uno da una parte dell'universo e uno dall'altra parte dell'universo. Cosa succede? Se io cambio lo stato a uno di questi, istantaneamente anche l'altro cambia il suo stato. Il loro corpo fisico è separato, non c'è niente che permette a uno o all'altro di comunicare il cambio di stato, però loro comunicano lo stesso. L'unica spiegazione è Einstein, che non credeva all'entanglement, in realtà è quello che ha dato le basi per spiegarlo, perché è il concetto di campo di Einstein. Cioè gli oggetti non sono nello spazio ma hanno nello spazio una loro estensione come campo che si estende in quello che noi chiamiamo spazio. E l'entanglement che cosa dimostra? Che questo campo che questo oggetto ha, questo campo invisibile che questo oggetto ha, è un campo esteso al punto tale da riempire l'intero universo. Quindi ogni cosa che esiste ha un campo invisibile che riempie l'intero universo. E qui poi c'è il concetto anche di Bohm, dell'universo olografico. Insomma io anche nel minimo spazio vuoto apparente è presente il campo, quindi l'anima di ogni cosa esistente. Ogni cosa che esiste ha una manifestazione fisica che può essere localizzata nello spazio e nel tempo e ha una manifestazione invisibile che riempie tutto l'universo. E quindi l'entanglement è la dimostrazione scientifica inequivocabile che ogni cosa che esiste può avere una manifestazione fisica ma ha un'anima infinita indistruttibile che riempie l'intero universo. Grazie mille. Grazie mille.